Offidani Piante, con i suoi 6500 metri quadri di esposizione, si occupa della vendita di piante verdi e fiorite, piante da interno ed esterno, vasi e tutto l'occorrente per il giardinaggio. Offre una gamma completa di servizi dedicati alle piante e ai giardini, avvalendosi della collaborazione di professionisti qualificati, il vivaio mette a disposizione esperti nella cura e manutenzione di giardini e aree verdi, pubbliche o private, in pianti di irrigazione, allestimenti per eventi. Entra nel nostro vivaio e troverai un incredibile assortimento di piante stagionali e sempreverdi, di ogni genere e tanto altro ancora. Inoltre, in occasione delle festività, troverai un'ampia scelta di abeti veri e sintetici, stelle di Natale e articoli da regalo e decorazione. Inoltre, in occasione delle festività, troverai un'ampia scelta di un'ampia scelta di un'ampia scelta di un'ampia scelta di un'ampia scelta. Da Offidani puoi trovare tutto il necessario per creare, arredare e curare il tuo spazio verde, interno o esterno. Offidani piante in via Garda a Porto Sant'Elpidio Inoltre, in occasione delle festività, troverai un'ampia scelta di un'ampia scelta di un'ampia scelta.